Signore, c'è la polizia. La polizia? Leva quelle mani del cazzo! Lassami! Detective, ne possiamo parlare? La sto pagando per il suo tempo. Fermo. Non è della polizia. È questo quello che Max fa. Sempre questi giochetti con le persone. Tutto quel lavoro solo per mille dollari. Se devi rubare, ruba in grande. Tu che ci fai? Volevo solo salutarti. Non è il momento. Allora a posto. Ci vediamo. Davo per scontato che ereditasse tutto questo. Ma non ha la forza per lavorare qui. È troppo debole. Un po' ti piace, penso. Certo che mi piace. È un miliardario. Stiamo festeggiando? E cosa festeggiamo esattamente? Miliardi di dollari. Tirati sulle maniche. Fidati. Non puoi imbrogliare un uomo onesto. Non deve dispiacerci per il bersaglio. Mi piace tanto. Mi piace tanto anche tu. Mi hai mentito. Siamo umani. E facciamo del nostro meglio. Sei causa di angoscia per tua madre. E non posso permetterlo. Vuoi che me ne vada? Come andrebbe a finire? Non bene. Che cosa gli hai detto? Un miliardo di dollari? Lo darei volentieri a voi. Giusti! Giusti! Fai sul serio? Faccio sul serio. Come posso esserne sicuro? Un miliardo di dollari? Che cosa gli hai detto? Leti!